Ciao ragazze, bentornate su Trucchi.tv Allora, finalmente, finalmente faccio il video della mia skin care routine aggiornata specifica per pelle mista infatti prima di iniziare ci tenevo a fare una piccola prevesse per chi magari capitasse qui per la primissima volta skin care routine, ma su che genere di pelle io ho una pelle a parte che ho 29 anni, quindi già faccio prevenzione, ma la mia pelle da quando mi sono trasferita a vivere qui in Gran Canaria è diventata straordinariamente mista tendenzialmente grassa ma nel senso che tira fuori tanto sebo, produco un sacco di sebo e mi trasformo in una lampadina, quindi quella che era una pelle normale tendenzialmente secca che avevo in passato è diventata mista, che lucida velocissimamente proprio, quindi ho dovuto veramente provare, provare diverse tipologie di prodotto infatti per quello ci ho messo un po' e eccomi qui a febbraio a fare la mia skin care routine che mi piace che mi piace, così come è strutturata mi piace molto e quindi iniziamo subito e iniziamo dalla mattina fino alla sera escludendo maschere, prodotti booster che solitamente vado ad inserire nella mia skin care routine in alcuni periodi quindi non li vado ad utilizzare a livello quotidiano costantemente, tipo le maschere sempre anche i booster quindi se volete un video solo ad hoc sui trattamenti urto che utilizzo fatemelo sapere che lo posso realizzare direttamente settimana prossima senza problemi, anche perché ho già i miei trattamenti booster, i sieri ad hoc, le maschere quelli che faccio quindi lo faccio senza problemi fatemelo sapere qui con un commentino e iniziamo subito dalla mattina allora, io mi sveglio la mattina la mia skin care è divisa in tre pezzi quindi non solo mattina e sera ma una doppia mattina e una sera vi spiego perché semplicemente perché io la mattina mi sveglio presto e vado subito in palestra se mi seguite anche sui video fitness vi avevo già raccontato il mio programma di allenamento in questo periodo quindi mi sveglio presto mi lavo il viso e per lavarlo vado a utilizzare un detergente delicato che mi piace molto che è questo qui di Lavera è un gel detergente vitalizzante per pelli miste e impure fino a poco tempo fa utilizzavo anche la mousse quello di erbolario con la base di acido ialuronico preferisco sempre utilizzare qualcosa di fresco che mi svegli e questo gel è bello rinfrescante quindi mi dà subito una bella botta di vita e mi fa sentire subito la pelle pulita non è troppo strong quindi mi piace perché tanto la mattina ho già la pelle la pelle il pelle la pelle già bella detersa dalla sera precedente quindi ho bisogno proprio di rinfrescare la mia pelle subito con qualcosa di bello fresco e questo di Lavera mi piace moltissimo subito dopo aver lavato il mio viso lo asciugo e vado a utilizzare una crema che sia bella idratante nutriente fresca da una texture leggera un qualcosa facile per scappare subito in palestra e utilizzo questa qui da più di un mesetto più o meno un mesetto questa qui è di Synchro Line mi piace molto perché è una crema nutriente molto leggera una texture molto piacevole si stende facilmente ne basta poco infatti sarà più di metà secondo me mi piace molto è una crema elasticizzante e idratante e all'interno contiene un sacco di cose in verità prima me le stavo leggendo tra gli ingredienti acido ialuronico proteine della seta glucosamina ma c'è veramente un sacco di di cosine che vanno proprio anche a proteggere la pelle siccome io mi sveglio la mattina presto per andare in palestra voglio qualcosa non riesco ad uscire senza crema cioè per me ho proprio disagio a non metterla a crema quindi metto questa e mi fa sentire subito la pelle più protetta idratata e vado a fare la mia seduta di workout e poi torno quindi mi sento già meglio solitamente utilizzo anche un contorno occhi che però ho finito da poco e utilizzavo questo qui di Delfen che mi piaceva tanto infatti adesso sto cercando di rimpiazzarlo con qualcosa di bello rinfrescante perché questo qui era un bel antifaticante bello fresco leggero la mattina mi piaceva tantissimo e infatti se avete qualche contorno occhi bello leggero proprio fresco consigliatemelo perché ve ne sarei grata arriviamo quindi alla mia vera routine mattutina quella con tutti i prodotti che vado a portarmi dietro tutta per tutta la giornata sulla mia pelle e vado come prima cosa dopo la doccia dopo la palestra vado ad applicare questo detergente per pulire il viso in profondità questa è della linea della DB Milano DB Face della linea Puricolizer proprio una linea proprio specifica per pelle mista e grassa questa linea mi ha proprio rivoluzionato la pelle nel giro di una settimana la mia pelle era completamente diversa ma dopo tre giorni era completamente diversa è una polvere è un detergente in polvere la prima volta che vado ad utilizzare un detergente in polvere sono sempre stata un po' così perché pensavo di doverci mettere troppo tempo invece faccio uno, due, tre un po' di acqua e vado a pulire tutto il mio viso mi dà una sensazione di freschezza di pelle pulita mai vista soprattutto dopo il sudore mi sento proprio i pori ben puliti proprio fantastico io soprattutto mi sono dimenticata di dirlo all'inizio ho tanto tanto il problema di pori dilatati io quando non curo bene la mia pelle lo vedo i miei pori diventano dei crateri lo vedo tanto io ovviamente molte ragazze spesso magari nei video skin care mi dicono no tu non hai i pori dilatati ragazzi voi mi vedete truccata cioè se vedete magari anche durante i vlog che magari sono struccata dovrei venire proprio attaccata con l'obiettivo per farveli vedere ma i miei pori sono proprio dilatati quindi è ovvio che io cerchi di camuffarli in tutti i modi però di natura e soprattutto quando vado a sbagliare i prodotti cioè che il prodotto non è proprio per la mia tipologia di pelle lo vedo subito proprio subito e quindi dopo aver pulito la mia pelle a volte non sempre è un passaggio che ogni tanto salto dipende è un passaggio che salto durante la routine mattutina ma che c'è sempre la sera vado ad utilizzare il tonico questo qui di Lit Earl questo è un instant boost skin tonic con l'aloe vera è un tonico calmante rinfrescante questo mi piace tanto 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 durante la routine serale questo non manca mai proprio mi piace però ve l'ho fatto vedere perché ogni tanto lo faccio ogni tanto durante la routine della mattina lo faccio ma non sempre quindi se lo faccio lo faccio subito dopo il detergente e poi applico la crema se no mi lavo il viso e poi vado ad applicare la mia crema che è sempre questa qui della Pure Equalizer queste ragazze se avete la pelle mista che tende al grasso che lucida tanto che avete i pori molto dilatati andate su questa ve lo dico proprio a cuore aperto perché è qualcosa di fantastico scusate ma ho perso il tappino perché io non so se anche voi durante il bagno io ho la varanga di roba tantissima ogni tanto perdo le cose perché sono sempre di fretta e non lo trovavo un tappino argentato comunque questa ragazza è una crema opacizzante che va proprio a pulire i pori nel giro di tre giorni mi ha cambiato letteralmente la texture della mia pelle cioè i pori erano evidentemente più chiusi va a eliminare proprio il sebo in eccesso che proprio causa i pori dilatati e questa mi piace tantissimo va a regolare anche la produzione di sebo ma soprattutto la cosa più evidente che io ho notato è proprio la grandezza dei miei pori che è proprio diventata più piccola cioè sono diventati proprio è proprio cambiato il finish della mia pelle è cambiato e questa mi piace tantissimo questa la utilizzo da un tre settimane quattro settimane tre bar a quattro settimane è fantastica veramente fantastica questa crema si può utilizzare sia mattina che sera perché è un fluido idratante opacizzante 24 ore io ovviamente la utilizzo solamente la mattina perché cerco di suddividere la mia skin care su diversi fronti andando ad agire su diverse mie problematiche quindi la routine mattutina per andare a opacizzare visto che mi devo truccare stare in giro tutto il giorno mentre la sera che poi vado a dormire vado ad agire su un altro fronte che è quello della vecchiaia anti age e quindi questa io la utilizzo solamente la mattina mi piace ha una texture super fluida è verdina vi faccio vedere è un pochino verdina vedete un pochino verdina anche uno spiccato profumino di fresco proprio sì sì di fresco molto piacevole un po' di un po' di pianta leggermente un pochino anche leggermente mentolata è veramente molto piacevole sì mentolata ma anche di pianta molto bella cioè molto bella molto gradevole sì sì è veramente molto gradevole e mi piace tanto perché poi si asciuga si asciuga bene io la vado ad applicare anche sul collo perché ogni tanto qualche qualche imperfezione mi cresce anche sul collo però qui arriviamo al step un po' che non c'è quasi sempre è uno step eccezionale quando capitano quei giorni in cui ho dei brufoli o delle imperfezioni molto molto marcate vado a utilizzare questa bacchetta magica ma la utilizzo veramente l'avrò utilizzata due o tre volte però la vado a utilizzare quando mi crescono delle imperfezioni molto evidenti quindi vado proprio a eliminarle vado a tacchettare proprio tac tac proprio sull'imperfezione e basta questo è sempre della linea pure equalizer questa linea mi sta piacendo davvero tantissimo ci sono anche altri prodotti di questa linea che vorrei provare sinceramente e penso che andrò la prossima volta che andrò in Italia quindi in questi giorni quando voi vedete questo video penso che andrò ad acquistare qualcos'altro perché c'è anche tipo un gommaggio molto interessante anche una maschera interessantissima e questo qui è proprio l'eliminatore delle imperfezioni cioè proprio descritto così e mi piace mi piace lo utilizzo quando vado è un prodotto che un genere di prodotto che non utilizzavo da tantissimo dal tempo del liceo per dire però ogni tanto da quando sono qui che la mia pelle è cambiata ogni tanto mi crescono qualche nascono fuori delle imperfezioni quindi vado e l'utilizzo dopodiché vado ad applicare i miei ultimi due prodotti per quanto riguarda la skin care mattutina quindi vado ad applicarmi il mio No Age di Skinious questo è un burrolabbra preferito in assoluto che sto utilizzando da tantissimo guardate quanto è scavato ma ne basta pochissimo perché io a parte che c'è un capello ne basta veramente pochissimo perché io lo sto utilizzando da mesi e mesi quasi una nat e ce n'è ancora tantissimo tra l'altro ho appena cambiato il pack lo trovate solo in farmacia ma vi lascio qui sotto la review se siete curiose hanno appena lanciato un nuovo packaging molto molto carino e poi l'altro prodotto che vado a utilizzare è il mio contorno occhi perché allora prima di andare in palestra non ho ancora sostituito il mio Hydra Skin quindi da fan questo qui però poi dopo ho già il mio contorno occhi e sto utilizzando questo qui di Colbert che in realtà prima utilizzavo la sera però poi mi sono resa conto che lo preferisco la mattina perché ha una texture molto molto ligera molto molto sensoriale che si assorbe subito e proprio va a stimolare la circolazione evitando le occhiaie ma soprattutto va a ridurmi i puffiness quindi le mie borse perché io tendo proprio a gonfiarmi ma proprio a gonfiarmi tanto cioè mi vengono proprio tante borse se non conoscete Colbert Colbert è un grandissimo dermatologo statunitense si chiama David Colbert che ha fondato un suo metodo un trattamento urto proprio per il viso che si chiama Triad Facel amatissimo dalle celebrities veramente molto amato che è proprio un trattamento urto per andare a ringiovanire proprio la pelle che si basa su micro dermo abrasione e altre step e quindi dopo tutto questo trattamento molto apprezzato molto conosciuto dopo tutto questo successo ha deciso di creare la sua linea skin care che è proprio questo fa parte della sua linea skin care che andasse proprio a riprodurre a casa alcuni effetti del suo trattamento comunque prolungare gli effetti per chi andasse a fare il trattamento quindi sia come trattamento da fare a casa per chi faceva chi si sottolineava al Triad Facel oppure anche per chi magari poverino non poteva magari fare questo trattamento perché comunque è un trattamento abbastanza costoso cercare di produrlo a casa quindi la filosofia la base della linea skin care di Colbert è proprio questa quindi andare proprio a ringiovanire la pelle a renderla più vitale più bella più luminosa a riprodurre la filosofia che stava dietro al suo trattamento e questo mi piace tantissimo questo mi piace tantissimo è a base di vitamina C un acido ascorbico di una tipologia e mi piace tanto perché va proprio a rivitalizzarmi proprio il contorno occhi e come base trucco mi piace tanto perché si assorbe subitissimo arriviamo quindi alla mia routine serale dove come prima cosa dopo essermi struccata e tutto con diversi struccanti poi se volete facciamo un video anche su quello magari nel video con i miei trattamenti eccezionali mettiamo anche gli struccanti che utilizzo solitamente adesso ne sto utilizzando l'olio trattante di Codaline ve l'ho fatto vedere fantastico quindi dopo aver lavato tutto il mio viso bello lindo vado a riutilizzare la mia polvere detergente di D.B. per eliminare tutto in verità alterno potrei utilizzare anche questo qui di lavera senza problemi però comunque non è un terzo detergente non mi sembrava il caso quindi in base a come era come la mia pelle però solitamente preferisco sempre magari questo qui perché sento che va a pulirmi meglio la pelle proprio in profondità dopodiché dopo aver pulito la mia pelle vado ad applicare due o tre volte a sera uno scrub uno sfogliante uno di questi due questo lo sto per terminare è proprio manca pochissimo però ve l'ho fatto vedere e sto già utilizzando questo qui questo è un pochino più leggero questo è un pochino più strong questo è il Deep Cleansing Exfoliator di Codaline mentre questo qui è di Uriage a base di acqua molto più gentile molto più tranquillo molto più più delicato sul viso però non lo utilizzo tantissimo perché comunque esfoliare troppo la pelle una pelle mista grassa vai a creare più danno che altro se lo fai troppo perché vai proprio a stimolare la produzione di sebo perché la pelle si deve autoproteggere perché li elimini troppo sebo e quindi vai a creare un meccanismo proprio al contrario a questo punto vado ad applicare questa volta sempre tutte le sere il mio tonico di Litcher questo mi piace tantissimo e lo vado ad applicare proprio mettendone un pochino si apre così le metto proprio un pochino sul palmo della mano e poi faccio così e lo vado ad applicare e lo lascio agire mi piace tanto perché all'interno continua allora è vera camomilla e anche cetriolo quindi è bello rinfrescante è bello lenitivo calmante mi piace tanto ho anche un altro prodotto che è di Litcher che non ho ancora iniziato a provare questo è il primo in assoluto che sto provando e poi arriviamo alla mia skin care vera e propria che è proprio stata costruita per andare ad agire proprio contro il tempo contro l'età perché comunque sono verso i 30 io faccio prevenzione anti-age da anni anni da un 4-5 anni tutti anche prima forse però strutturata bene 4-5 anni strutturata bene e quindi come prodotti skin care la sera prima di andare a dormire voglio qualcosa di bello potente bello ricco bello proprio che vada proprio ad agire sulle micro rughette su proprio l'elasticità della pelle il tono e quindi sto utilizzando questo duetto che mi piace tantissimo io adoro i prodotti di Estederm avevo già provato in passato ve ne avevo già parlato di una crema giorno cellulare che adoro è ottima e quindi ero curiosa di provare questa linea a base di ialuronico di tre pesi molecolari differenti quindi abbiamo acido ialuronico di basso peso medio peso e alto peso questo vuol dire che va tanto bene alla nostra pelle perché penetra in tutti gli strati della pelle quindi anche in profondità ma anche e mai in superficie quindi hai veramente una bella pelle bella rigenerata più tonica più idratata più nutrita e va proprio ad agire anche sulle micro rughette dell'espressione quindi magari nei naso labiali sulla fronte è una bella crema bella ricca e quindi vado ad applicare prima il siero questo qui che sono 30 ml e poi vado ad applicare la mia crema questa qui che è una texture bella ricca bella bella sì è ricca volgente mi piace tanto ecco per me sarebbe c'è scritto che si può utilizzare anche mattina o sera per me questa la mattina una skincare da giorno sarebbe troppo perché è proprio bella ricca cioè vedete è proprio una crema con una texture importante come mi piace tanto la notte prima di andare a dormire che mi fa sentire proprio bene il di giorno non la potrei mai utilizzare e questa mi piace tantissimo è proprio un trattamento intensivo e la sto utilizzando da quando la sto utilizzando vedo proprio la differenza mi piace tanto e questo se avete state cercando avete le mie stesse problematiche comunque volete fare prevenzione volete agire in questa direzione date un'occhiata a questa perché veramente all'interno è una formulazione veramente top per quanto riguarda invece il contorno occhi vado a utilizzare qualcosa di più ricco più nutriente proprio anche come texture e ho rispolverato il mio clinico la Bautau is rich questo l'avevo acquistato un sacco di tempo fa poi l'avevo accantonato forse era il periodo estivo lo sto utilizzando però comunque è un contorno occhi molto molto ricco cioè vedete anche la texture della crema come è bella bella ricca questo la sera mi piace tanto di giorno per me non sarebbe proprio adatto perché è molto molto intenso molto presente quindi ci mette un po' ad essere ad essere assorbito la sera invece mi piace tanto abbinato al trattamento questo qui della DS Dermi Alluronic mi piace tanto perché mi sento proprio di aver dato il giusto trattamento la mia pelle infatti la mattina mi trovo proprio mi sveglio bene mi piace la mia pelle mi piace il tono mi piace la luminosità mi piace poi vabbè a volte sono più giallina degli altri giorni però così con questo qui la notte mi piace perché è bello nutriente bello intensivo proprio va ad agire bene e la notte secondo me gli do il tempo che merita che ha bisogno sul mio genere di pelle e con questo ho finito tutta la mia skin care routine dal giù da mattina presso fino alla sera e niente ragazzi spero di avervi dato qualche spunto da prendere per la vostra skin care fatemi sapere se volete settimana prossima il video sulla mia integrazione skin care e noi ci vediamo domani con un nuovo video ciao ciao